Di tutte le attività dell'uomo, l'agricoltura da sempre segue la scansione delle stagioni e risente dei ritmi e dei capricci della natura. La siccità che secca tutto e gli incendi esplosi sotto forma di emergenza in questi ultimi mesi sono una minaccia ricorrente, ma anche le piogge abbondanti e le grandinate possono condizionare il lavoro dei campi, con gravi ripercussioni per le attività economiche ma pure per la disponibilità di cibo. Chi lavora la terra e vive con i suoi frutti lo sa perfettamente e spesso accetta con filosofia pure le avversità. Certo, la frequenza con cui la pioggia provoca danni o il caldo secca le colture negli ultimi tempi è aumentata per effetto dei cambiamenti climatici ma maltempo e siccità sono sempre esistiti e i contadini hanno scolpito nel DNA la capacità di adattarsi. Ma se gli imprenditori agricoli accettano con filosofia quel che manda il cielo sono molto meno fatalisti nell'analizzare quanto accade a terra perché se è vero che le perturbazioni distruttive sembrano alternarsi con crescente frequenza e intensità, allagamenti e smottamenti sono spesso conseguenza anche di una mancata gestione del territorio da parte dell'uomo. Non a caso la piaga del dissesto idrogeologico è da anni un tema su cui geologi e climatologi chiedono più attenzione da parte delle istituzioni, spesso disattente di fronte a problemi e criticità che poi, in caso di precipitazioni particolarmente intense, possono deflagrare in autentici disastri come è accaduto poche settimane fa con l'alluvione in Emilia-Romagna e in tutti i luoghi messi in ginocchio dalle frane. Lo sanno bene proprio gli agricoltori che con il loro lavoro hanno sempre svolto il ruolo di custodi del territorio. Un corso d'acqua, un canale di irrigazione, un campo, una zona boschiva, tutto senza adeguata manutenzione può rappresentare una minaccia per la natura e per l'uomo. Ma spesso, ancora oggi, chi rappresenta le istituzioni sembra ignorare che certi disastri ambientali non sono solo colpa del clima impazzito.